Però ha dominato presso questo match, ci hanno fatto male i calcoli, 6 uomini in doppia cifra, 10 a segno, 12 utilizzati, vittoria comunque di squadra, magari Holmes ha dato un po' parecchio, però forse adesso vi direi che era quello che cercavi, comunque tutto bene oggi no? Siamo contenti, sapevamo che avremmo trovato una squadra che ci avrebbe dato spazio nel tiro, io ho detto ragazzi di prendere ogni tiro con fiducia, quando si presentava l'opportunità, tutti i tiri di Reggi, secondo me a parte il primo, poi tutti gli altri hanno tutti i tiri aperti, un tiri con spazio, quindi sono i tiri che ci stanno, abbiamo coinvolto tutti e questa è la cosa più importante riguardo a noi oggi. Ciao!